Questo è il problema. Quando sei spenta, non esiste il mondo. Se hai occhi chiusi, non vedi. Io sì. Io sì. Dai svegliati amore. Ora ci sei. Sai che quando non ci sei io sono molto triste. Non saprei come fare senza di te. Ecco qua tutti i nostri bimbi. Terra è terra di video. Mi stai guardando. Mi stai guardando, porca puttana. Mi stai guardando? Eh? Non sopporto più. Perché non vedi? Eh? Guardami. Io ci provo. Ma tu non vedrai mai quello che vedo io. Ok? Tu sei lì davanti e io sono qui di dietro. E basta. Non saremo sempre troppo lontani. ...e stato eseguito l'impianto di una protesi sottoretinica, un vero e proprio modello di retina artificiale. È un fotodiodo, un microscopico apparato elettronico posizionato al di sotto della retina che ha l'obiettivo di non ricevere impulsi luminosi e di tradurli in impulsi elettrici, da fin di riavviare il processo di collegamento all'occhio e cervello. 11 settembre, 16 anni fa, è un'attività che è la protesi con i gemelli. ...